Ciao amici, oggi sono a Finalborgo, uno dei borghi più belli d'Italia, sulla libiera Dovete sapere che qui, in questo antico paese, abitato per lungo tempo da una guarnigione di circa 2000 soldati spagnoli, perché da qui partiva la luta spagnola che portava attraverso la Svistra e arrivava sino ai Paesi Bassi, ecco qui sino alla metà dell'Ottocento si producevano carte da gioco e tarocchi che venivano spediti in tutta Italia, ovviamente, ma anche in Francia e ovviamente in Spagna, perché proprio qui gli spagnoli avevano imparato il gioco dei tarocchi. Proprio a questa produzione si ispira la Notte dei Tarocchi, un evento che si svolge a Finalborgo ogni anno il 12 e 13 agosto. In questa occasione vi invito a scoprire una bottega molto particolare, molto speciale, la legatoria del borde. Andiamo a scoprirla insieme. Ecco, in questo luogo si respira ancora un'atmosfera d'altro tempo e qui gli amanti ai tarocchi che faranno una bellissima scoprirla. Ciao Giordano, benvenuto in legatoria del borde. Ciao Ima, che piacere vederti, legatoria del borde, fantastico. Ima è la titolare della legatoria del borde, un luogo veramente magico, ve lo assicuro, dove sono esposti fantastici oggetti di carta creati da lei stessa. Ima, raccontaci un po' di questa tua passione, come è nata e come si sviluppa. La mia passione è nata tanto tempo fa, ero ancora molto giovane, avevo 16-17 anni e avevo sempre della carta tra le mani e provavo a creare e vedevo che ero molto soddisfatta della mia creazione già allora. Quindi adesso sono un po' più severa con me stessa, nel senso che cerco la perfezione. E infatti produci degli autentici gioielli. Esatto. Queste sono alcune cose che io creo, con scatole, album, cornici. Qua ci sono quaderni di ogni tipo, come ricettari, piccole agende, taccuini interamente fatti a mano, quaderni. Bene, dovete sapere che Ima ha deciso di dedicare una vetrina di questa sua gioielleria di carta ai tarocchi creati da Rinascimento Italia Style Art. È un vero onore per me Giordano di avere i tuoi gioielli accanto ai miei, in una bellissima vetrina che ti voglio mostrare. a me è spettacolare. I tarocchi sulla Busca, i tarocchi del Mitelli, la Sibilla del Cuore. La Sibilla del Cuore. I tarocchi. Questo è un gioiello tra i gioielli. Bene amici, salutiamo Ima e vi invitiamo a visitare fino al bordo. uno dei borbi più belli in Italia e soprattutto questa splendida legatoria del borgo in via Alicottera 42. Qui certamente chiunque troverà tra i tanti manufatti di carta l'oggetto del cuore per se stesso o da regalare agli amici. Io ritorno a casa. Ciao. 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 Grazie. Grazie a te.